buonasera voi siete qui ascoltare me invece di ascoltare la boschi tipo per esempio da vespa o similari fate male la boschi è meglio quindi fate ancora tempo a cambiare idea e andare a sentire lei io però sinceramente vi parlo poco della crisi di governo similari che vediamo se se volete poi dopo vi vi faccio una postilla finale su come la penso io in realtà volevo farmi una direttina avevo promessa oggi perché qualcuno ha notato che buona parte delle grandi società le famose big tech company e così questo tipo sono hanno come principali azionisti quasi sempre gli stessi nomi vada dire vanguard fidelity black rock e similari allora dice ma chi sono questi cosa fanno allora detto va bene va passo un po di tempo a spiegarvi come come funzionano le proprietà di queste di queste società perché magari qualcuno interessa inizio subito con darvi una piccola delusione non non sono i rothschild o similari che 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 possiedono che possiedono tutto in realtà è un pochettino più semplice però se noi poi andremo a vedere bene vedremo che il gruppo che il club è piccolino ecco poi al di là dei dei nomi dei nomi che ci sono che ci sono in ballo scusate il l'illuminazione un po quella che ma purtroppo qua nella casa di roma le luci non non sono non sono al meglio allora come funziona il possesso societario di una società tipo per esempio twitter se noi guardiamo chi sono gli azionisti di twitter vediamo qua davanti che il primo azionista con circa il 10 per cento è il gruppo vanguard dopodiché abbiamo col 7 per cento margastale poi black rock al 2 e così via allora innanzitutto cosa succede e su questo guardate sono abbastanza informato su come funziona perché veramente ho lavorato per tutta la vita con le azioni come come si analizza come si capisce come una società quotata in borsa quanto vale perché chi la possiede allora il primo dato da guardare per capire bene di che cosa stiamo parlando è la capitalizzazione quindi la capitalizzazione significa quanto vale tutta la società cioè cos'è la segnone tipo buonaventura no che uno dovrebbe andare a firmare per comprarsi tutta la società come si ottiene la capitalizzazione beh il prezzo di borsa quindi nel caso di twitter credo che sia 40 dollari qualcosa del genere sì se penso penso di sì 47 dollari il prezzo di borsa per il numero delle azioni che ci sono in giro vale a dire il capitale no di una società è diviso in un numero di azioni ogni azione rappresenta quindi una una fettina diciamo così un pezzettino della della società e tutte le azioni che ci sono in giro moltiplicate per il valore di una singola azione dalla capitalizzazione di borsa nel caso di twitter stiamo parlando di circa 40 40 miliardi credo aspetta non vorrei dire una sciocchezza ma credo di non sbagliare sita va con gli ultimi con le ultime discese 38 miliardi di dollari è tanto è poco è tantissimo 40 miliardi sono una cifra molto importante ma attenzione è tantissimo visto con l'ottica normale del valore di una società come siamo abituati a guardarla noi 40 miliardi è poco rispetto ad altre cifre assolutamente assurde che ci sono nelle nella borsa americana nelle borse mondiali per esempio non so facebook tanto per rimanere nella stessa nella nella stessa area capitalizza 730 miliardi di dollari quindi twitter 40 facebook 730 vediamo come possiamo fare un raffronto con cose che conosciamo che 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 società volete quanto vale leni ecco capitalizzazione ecco leni quindi la società più grande italiana pozzi petrolio in tutto il mondo e tutti i distributori della agip no e così via vale 33 miliardi di euro quindi con considerato considerato la differenza fra euro dollaro diciamo quindi che twitter vale più o meno come leni ecco poi uno può pensare se giusto se normale quale delle due cose sia sbagliato o se sono giuste tutte e due ma direi che va bene così leonardo allora vi dico subito leonardo tanto vedo le leonardo nostra più grande azienda della difesa leonardo allora leonardo capitalizzazione allora la capitalizzazione di leonardo 3 miliardi e mezzo ok quindi quindi ci siamo capiti insomma 40 miliardi il valore di twitter 3 miliardi e mezzo è il valore che sito guarda su google non è che scrivere nome di una società capitalizzazione le trovate tutte perché se voi guardate il valore di borsa il valore di mercato dell'azione non capite nulla perché dipende da quante in quante in quante azioni diviso il capitale cioè io posso prendere la stessa società la divido in 100 azioni e un'azione vale 10 la divido in 1000 azioni e un'azione vale 1 quindi non non vuol dire niente vedere il valore di borsa della società no il valore di mercato di mercato di un'azione devi vedere per capire quanto vale tutta la società la capitalizzazione quindi in ogni caso stiamo parlando di cifre iperboliche bene il principale azionista di twitter no quindi quello che ha più azioni e più voti è questo è questo fantomatico vanguard allora biontech 72 esiste allora comunque fatto sta che con quindi un valore di mercato della quota di circa 4 miliardi questo vanguard è quello che ha più azioni cosa significa significa che ogni anno c'è l'assemblea degli azionisti nell'assemblea degli azionisti chi è azionista si registra e volendo può votare cosa vota vota l'approvazione del bilancio così via e può votare anche di cambiare o di aggiungere membri nel consiglio d'amministrazione e quindi di fatto controllare controllare la la società milesima ma vanguard vuol davvero controllare la società come primo azionista vuol davvero controllare o decidere lei che cosa fa che cosa fa twitter e purtroppo o per fortuna la risposta è nì nel senso che vanguard è un fondo di investimento quindi cosa significa significa che tante persone mettono i loro soldi in danno i soldi a vanguard e vanguard li gestisce il problema però che la stragrande maggioranza dei fondi di vanguard sono degli etf cosa significa faccio un passo indietro il fondo classico di investimento cioè dove c'è un gestore che l'idea iniziale del fondo di investimento che cos'era dice io sono capace di gestire di interpretare bene il mercato di scegliere le azioni migliori date tutti i vostri soldi a me io ve li gestisco in monte quindi uno mi dà un milione l'altro me ne dà 10 l'altro me ne dà 20 uno mi dà 50.000 euro l'altro mi dà 1.000 euro così via io metto tutto assieme una volta messo tutto assieme ho tirato su 400 milioni bene questi 400 milioni io li investo grazie alle mie capacità grazie alle mie conoscenze dopodiché tutti i guadagni tutte le perdite vengono ripartite esattamente fra tutti quelli che hanno messo che hanno messo i soldi questo qui è l'inizio diciamo così del fondo del fondo di investimento cosa è successo però che alla fine tutto sommato si è visto che la maggior parte di questi fondi man mano che diventavano grossi non è che facessero sta gran differenza rispetto al mercato anzi spesso facevano peggio e oltretutto chiedevano proprio perché normalmente una struttura del genere ha bisogno dei gestori degli analisti di tutta una serie di personaggi per fare bene questo lavoro chiedevano delle commissioni piuttosto alte di gestione a un certo punto hanno cominciato a venire fuori quando io ero vicino a smettere di lavorare diciamo così buona parte della mia carriera lavorativa è stata proprio a contatto con i fondi di investimento io lavoravo esattamente con queste società qua che facevano questo tipo di lavoro cioè il fondo di investimento tradizionale c'era un gestore tipo il gestore delle generali il gestore del San Paolo e così via che diciamo in stretto contatto con me e altri che conoscevano bene il mercato decidevano cosa comprare e vendere e puntavano a fare meglio del mercato qualcuno ce n'è ancora ovviamente ma la maggior parte dei soldi sono andati su questi etf cosa sono gli etf beh gli etf sono i fondi cosiddetti passivi in buona sostanza che cosa fanno comprano tutte le azioni cioè prendono per esempio l'indice del mercato americano e comprano tutte le società del mercato americano esattamente in proporzione con il loro la loro dimensione il loro peso negli indici quindi se una società pesa sulla base della capitalizzazione il 2% di tutto il mercato americano loro comprano il 2% di quella società lì questa cosa crea dei problemi adesso che stanno cominciando a percepire innanzitutto cos'è la ragione beh la ragione è comprando tutte le azioni in diciamo in una vale l'altra ottieni da una parte la massima diversificazione del rischio 2 non hai bisogno del gestore e avrai come ritorno esattamente quanto sale l'indice di borsa perché se l'indice di borsa è composto ovviamente dalla somma delle performance delle azioni che compongono appunto l'indice nel momento stesso in cui io le compro tutte a quel punto avrò esattamente quel ritorno lì quindi se l'indice fa più 1 i miei risparmi saranno aumentati dell'1% se l'indice di borsa fa meno 1 i miei risparmi scendono dell'1% quindi tu prendi un grosso fondo che compra tutti questi titoli e puoi permetterti di far pagare delle commissioni bassissime per per chi per chi sottoscrive il fondo perché non hai bisogno né del gestore né di niente perché in realtà appunto il fondo compra esattamente tutte le azioni senza in modo totalmente cieco cioè non c'è una persona nel momento stesso in cui arrivano altre persone che comprano quel fondo ripartisce partono gli ordini in automatico viene fatto tutto quasi in automatico il problema infatti tu lo vedi se vai a vedere che tipo di fondi sono questi che possiedono twitter in particolar modo ce l'avevo da qualche parte ma allora aspetta lo trovo eccolo qua il principale singolo azionista quindi al di là del della marca diciamo così del fondo di investimento che abbiamo detto che 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 è Vanguard è il Vanguard Total Stock Market Index cioè un fondo che le compra tutte quindi non è che comprano twitter perché twitter perché penso che salga perché va bene così questo tipo le comprano tutte poi il secondo azionista è il Vanguard Mid Cap Index Fund quindi se uno vuole mettere i propri soldi su tutte le azioni di media capitalizzazione quindi quelle non troppo grandi probabilmente saranno sotto i 50 miliardi di capitalizzazione allora compra quel fondo lì quindi è dentro sia nel fondo che li compra tutte sia nel fondo che compra quelle di media capitalizzazione e il terzo quindi il terzo singolo fondo più grande è il Vanguard 500 Index Fund quindi quello che investe nell'indice delle 500 principali azioni del mercato americano in cui c'è anche twitter quindi capite bene che in realtà chi sono i proprietari come dire nessuno cioè è gente che tramite Vanguard investe il proprio denaro sugli indici questa cosa dal mio punto di vista ormai sono fuori dal mercato da un bel po' ma suppongo che sia anche colpa di queste pazzie che ci sono su Tesla e similari perché se una società cresce tantissimo di valore a quel punto cresce tantissimo anche il peso di quella società sull'indice e questi ETF devono comprarla perché se a un certo punto la Tesla si mette a pesare il 3% di tutti gli indici questi fondi devono avere il 3% di tutti gli indici e allora cominciano a comprare Tesla e nessuno le vende e il prezzo va su pazzescamente questa è una roba oggettivamente molto molto pericolosa per la stabilità del mercato cioè come sempre quando c'è un player che diventa troppo pesante rispetto agli investitori di mercato poi si creano delle strutture io fortunatamente non ci sono più dentro in questo mondo perché se no mi sarei messo le mani nei capelli che prima ne avevo di più ma vabbè e quindi funziona quindi il risultato che cos'è il risultato è che buona parte degli azionisti di Tesla quindi dei proprietari di Tesla sono passivi cioè vale a dire non gente che arriva lì e ti dice ah ma io voglio che Twitter faccia che ne so più pubblicità meno pubblicità faccia una cosa differente o meno il primo azionista diciamo virgolette vero di Twitter è il nostro amico Jack vado a dire vado a dire Jack Dorsey che è il fondatore Jack possiede allora Jack possiede il 2,21% ora io giuro non la so la storia di Twitter quindi io non lo so quante quando ne ha vendute se si è diluito se ha cercato altri investitori cosa è stata la sua cosa di sicuro non è diventato povero in ogni caso teniamo presente che anche il semplice 2,21% che in questo momento il signor Jack detto erbarbetta da Bagnai quello che avete visto interrogato balbettante da un ottimo senatore Cruz repubblicano nelle audizioni parlamentari negli Stati Uniti beh 2,21% se tutta la società vale 40 miliardi vedete bene che 1% sono 400 milioni di dollari quindi significa che grosso modo il valore delle azioni al momento in mano al signor Jack erbarbetta quello che decide di bannare Trump e similari è circa un miliardo che non è poco non è cifre non sono le cifre incredibili ma un miliardo di dollari sono un sacco di soldi quindi significa che se uno invece volesse provare a contrastare il signor Jack dicendo ma io forse voglio fare differente o similar e dovrebbe cominciare già col mettere miliardo di dollari qualcuno lo fa per esempio uno che ha cominciato a comprare delle azioni twitter chiedendo invece come da attivista chiedendo di partecipare alla gestione della società è il fondo Elliot quello per intendersi che è proprietario del Milan e il il fondo Elliot invece è un fondo attivista vale a dire è un fondo che acquista titoli pensando di guadagnarci e nel caso chiede di partecipare alla gestione della società o addirittura ne prende la gestione della società allora il fondo Elliot che cosa ha fatto ha comprato delle azioni twitter ha cominciato a rompere le palle dicendo ma io vorrei cambiare di qui di là di su di giù e allora hanno deciso di accettare dei rappresentanti un rappresentante di Elliot nel consiglio d'amministrazione perché alla fine questo è cioè vale a dire gli azionisti votano un consiglio di amministrazione i fondi passivi di solito non partecipano al voto oppure se lo fanno di solito appoggiano la lista o i nomi presentati dall'attuale management Elliot appunto ha ottenuto un suo rappresentante da mettere dentro nel consiglio di amministrazione di twitter ma se uno guarda il consiglio di amministrazione di twitter capisce che ci sono delle perché alla fine è tutta una conventicola no per esempio trovi dei nomi che già ti fanno suonare un pochettino dei campanelli d'allarme per esempio trovi un Zölnick ma chi può chi è questo Zölnick Zölnick era l'ex presidente della World Bank della Banca Mondiale trovi l'ex ministro ministra perché ovviamente un tocco di diversity che va sempre bene quindi donna e nera perfetto l'ex ministra della finanza della Nigeria dentro nel consiglio di amministrazione di twitter come ci finisce l'ex ministra delle finanze della Nigeria in twitter io non voglio neanche pensarci perché ci finisce quello della World Bank ma anche lì non ci voglio nemmeno pensare fatto sta che in ogni caso ti fa capire come a un certo punto queste grandi società se volessero detta cruda comprarsi detta bene cooptare personaggi che hanno un forte giro di relazioni nel mondo della finanza mondiale non fanno molta fatica perché basta che gli diano una società che vale 40 miliardi ma trovare 3 milioni ma sto basso basso da dare all'ex ministro della finanze oppure al politico XY che ha tutta una serie di relazioni con questo con quest'altro cosa ci vuole veramente ci vuole pochissimo è quindi il risultato che l'enorme valore di queste società gli consente di andare a scegliere dei personaggi che hanno delle relazioni notevolissime in giro per il mondo e poi uno non si stupisce perché costoro siano protettissimi ora io lo so qua tutti i fan di Trump segnale ma mi arrivavano magari dettaglierò meglio nel libro ma mi arrivavano più messaggi per tramite delle persone governative o cose di questo tipo da parte degli interessi delle big cap americane o dei big dell'online americano rispetto che a questioni governative cioè interessa molto di più agli emissari del governo americano almeno così come la vedo io la tassazione sull'online rispetto che alla grande geopolitica o che famo o così di questo tipo e questo è giusto per capire chi forse ha una visione un po' distorta no pensando che arriva l'America che fa che poi l'insurrezione o similare non sono più bravi questi qui ecco mettiamola mettiamola così questo è cioè alla fine se noi andiamo a vedere anche le altre big tech più o meno è così i fondi passivi che racchiudono i risparmi di mezzo mondo e li gestiscono in maniera stupida e dall'altra parte invece abbiamo ancora i fondatori che più o meno dettano legge qualche fondo attivista che ogni tanto riesce riesce ad inserirsi e altri cubi per arrivare con personalità importanti con relazioni internazionali che servono al mantenimento diciamo così della posizione privilegiata di profitto di queste grandi società per cui chi possiede veramente veramente twitter beh alla fine ancora il signor jack nonostante abbia il 2% vuoi prendere vuoi prendere twitter comincia a metterci sul sul piatto almeno un miliardo rompi le balle e forse ti danno un posto in consiglio di amministrazione oltretutto sono andato a guardare la struttura del consiglio di amministrazione di twitter è complicata perché hanno un sistema molto chiuso di rinnovo del consiglio di amministrazione tale per cui non scade tutto assieme il consiglio di amministrazione scadono tipo due membri all'anno per cui in realtà anche chi volesse fare diciamo così delle scalate ostili cioè vale a dire comprare un'enorme quantità di titoli per cacciarvi al management e fare altre cose in realtà non non potrebbe farlo quantomeno avrebbe dei tempi molto lunghi perché ogni anno magari riuscirebbe a sostituire soltanto due nomi del consiglio di amministrazione per cui è piuttosto piuttosto complicato ecco come come struttura riuscire a strappagliela a jack ma nessuno ha particolare interesse fino ad oggi mi verrebbe a dire di strappare a jack perché in realtà chi investe in quel titolo vuole che continui a salire e chi meglio del fondatore e così via riesce o dovrebbe riuscire a capire come estrarre maggior valore rispetto a questa società per cui sono tendenzialmente tranquilli con le loro le loro società che continuano a gestire anche con delle quantità piccole le quantità piccole derivano perché man mano in passato sono andate avanti a cedere quote della loro società diventando ovviamente ricchissimi i componenti un consiglio di amministrazione se non mi ricordo male twitter sono credo 10 credo circa sì 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 per cui per cui questo è certo poi il signor jack potrebbe decidere di vendere il suo 2% a un'altra un'altra corporation che poi si troverebbe l'onere di gestire di gestire la società gli conviene non lo so qualcuno l'ha fatto qualcun altro no altrimenti altrimenti le cose invece possono cambiare se ci sono delle società possedute da una singola persona in toto o similare allora in questo caso però tante volte neanche vengono quotate faccio un esempio tipico in Italia non lo so la barilla non la trovate in come quotazione o la ferrero già che parliamo della nutella che per scherzare adesso facciamo i tweet i tweet sulla nutella non sono quotate perché tutte le azioni sono sono della della famiglia e quindi non è quotata in borsa una delle prime società che quotà in borsa diciamo una delle prime no una delle principali società che quotà in borsa quando quando lavoravo era è stata la Campari era una società totalmente posseduta dalla famiglia erano venuti fuori dei dei dissidi all'interno della famiglia quindi c'era una adesso non mi ricordo se la figlia la sorella adesso non 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 rimembro comunque c'era una un membro della famiglia che a un certo punto dice no vabbè aveva tipo credo litigato con gli altri e voleva uscire risultato la sua quota ha deciso di venderla sul mercato e così facendo si era fatta la quotazione della Campari che significava che il 70% era ancora proprietà della famiglia e il 30% era stato poi messo sul mercato quindi agli investitori che volevano che volevano acquistarla altrimenti era totalmente posseduta dalla famiglia in Italia spesso è così cioè ci sono delle aziende che ancora rimangono familiari e altrimenti delle delle aziende che arrivano sul mercato o per storia perché ci sono sempre state tipo la Fiat Generali o così via altrimenti poco altro e poi c'è stato la parentesi in fausta delle privatizzazioni dove insieme con la quotazione sul mercato dell'azienda si è avuto anche il passaggio di proprietà della maggioranza delle azioni dal pubblico al privato come caso famigerato quello delle autostrade quindi Trump può acquistare il Twitter no non credo perché secondo me non ce l'ha il miliardo per anche iniziare a comprare a comprarsi il Twitter se invece di 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 Trump fosse Warren Buffett volendo Warren Buffett si comprerebbe tranquillamente il Twitter ma non credo che sia il suo genere cioè Warren Buffett che è il secondo più ricco uomo del mondo adesso so che è diventato quel fenomeno di Tesla sempre di Elon Musk considerato valore delle sue azioni per valore di mercato poi è virtuale perché per portare a casa questi soldi dovrebbe venderli ma la volta che inizia a vendere le sue azioni secondo me viene fuori un massacro con Tesla però praticamente il Warren Buffett di solito è sempre stato famoso per essere un value investo vuole dire compra delle cose che sa che la gente usa ogni giorno e che sono degli investimenti più tranquilli lui comprava le Gillette perché sapeva che ogni giorno qualcuno si faceva la barba non io però è stato uno dei suoi grandi acquisti comprava Coca Cola comprava McDonnell insomma robe un po' più tradizionali ecco mettiamola così però volendo quanto ha di patrimonio personale Silvio secondo me anche lui si va a somigliare comunque vediamo subito Mediaset quanto quanto capitalizza allora Mediaset voi tenete presente che a Silvieto nostro gli hanno babbato 400 milioni così in una giornata solo con la sentenza della Mondadori se voi immaginate un giorno vi dico cosa è successo a me con le cause ma voi immaginate una persona che un giorno perché il giudice si sveglia così che ho deciso che ti do torto e ti faccio pagare 400 milioni perché ce le aveva ma immaginate quanto gli possono essere se le girate le balle al al signor Silvietto comunque cioè noi ci ridiamo sopra però intanto mettetevi nei suoi panni arrivano e dice pagare 400 milioni oltretutto quello che più ti sta sulle balle vale a dire a De Benedetti no perché uno sui aspetti della giustizia ci pensa sempre ma bisogna viverle queste cose poi certo ti arriva meno la notizia perché giustamente i giornali a reti unificate ti diranno che aveva ragionissima De Benedetti su questa cosa in realtà io ho guardato bene quella sentenza e non aveva ragionissima De Benedetti secondo me su questa su questa questione comunque immaginate voi arriva una sentenza che vi impone di pagare 400 milioni lui ce le aveva ma mettetevi nei panni con una cosa simile che non so avete 100 mila euro ecco immaginate che arriva una sentenza che vi dice che non dovete pagare 80 mila quello che è più vista sulle balle no quindi giusto per capire allora Mediaset capitalizzazione sono 2 miliardi e 46 quindi vedete che tutta Mediaset vale 2 miliardi e mezzo non mi ricordo quanta ne ha il Mediaset vediamo subito azionisti allora non mi ricordo quanta parte sul mercato eh no però vediamo subito allora anche qui abbiamo Vanguard no e similari allora azionariato ecco vedete la Fininvest ha il 44% quindi una società vale 3 miliardi eh la società di famiglia di Berlusconi ne ha poco meno della metà quindi stimiamo no il eh il valore di Berlusconi circa poi ci sono i familiari comunque diciamo un miliardo è circa un miliardo quindi anche Berlusconi farebbe abbastanza fatica non ne avrebbe abbastanza ecco per comprare per comprare Twitter ma penso che che neanche neanche gli interessa quindi spero di avervi più o meno spiegato chi controlla chi quindi questi fondi investimento che si ripetono da una parte all'altra per la maggior parte dei casi non sono esattamente i simboli della finanza nascosta o cose di questo tipo ma sono appunto fondi passivi che replicano il mercato gestite da queste grandi società di gestione del risparmio ma non hanno discrezionalità cioè i 6.000 miliardi che gestisce che che gestisce eh sì ecco potremmo dimetterci in massa anche per per protestare contro 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 Twitter i 6.600 adesso non mi ricordo miliardi che ha a disposizione vanguard no sulla maggior parte dei fondi appunto vengono ripartiti comprando tutti i titoli che ci sono in giro e appartengono poi questi soldi a centinaia di migliaia di risparmiatori che gli mettono mettono lì i propri risparmi quindi questo è due parole invece anche se veramente non mi pare il caso sulla tesissima crisi di governo perché non mi pare il caso perché tanto in ogni caso decidono loro io mi preoccupo quando posso fare qualcosa io personalmente ecco mettiamo così non quando dipende da come girano le cose fra Renzi di Conte e Conte o similari io vi posso dire però una cosa indipendentemente dalle schermaglie di questi giorni immaginiamo che Conte riesce a trovare l'appoggio di Mastella al di là della tristezza della cosa cioè voglio dire immaginate il 5 stelle il governo del cambiamento la rivoluzione così così poi finisce aggrappata ai voti della moglie di Mastella ecco soltanto immaginarla ma supponiamo che anche ci riescano significa andare avanti a far che cosa andare avanti a far niente io in realtà mi sono fatto un'idea magari mi sbaglio ma la mia idea è che al PD tutto sommato non dispiaccia l'idea di votare non decide l'opposizione non decide la minoranza non decidiamo noi col 17% la possibilità di votare ma se un partito della maggioranza piccolissimo come quello di Renzi può fare sto casino immaginate se a un certo punto al PD viene in mente che si può votare perché io penso che al PD possa venire voglia di votare beh perché se io fossi al suo posto io ragionerei così ora qui in futuro dopo aver speso i 140 miliardi degli scostamenti più ce ne saranno altri 20 del prossimo seminario ecco dopo aver speso queste cose cioè dopo il pasto che non gli ha portato questo grande consenso purtroppo c'è una valanga di guano cioè tutti i falsi di bilancio fatti da quell'incompetente di gualtieri vale a dire le garanzie sulle società vale a dire i crediti di imposta il patrimonio assegnato cioè sono tutta una serie di cose che arriveranno in futuro sulle corna di chi sarà il poverello lì a governare oggi miracolosamente dopo che io soltanto da aprile che lo raccontiamo in tutte le salse si sono accorti che questa pioggia di miliardoni che questa volta sono tanti 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 del recovery fund purtroppissimo hanno tutta una serie di condizionalità vale a dire te li do anche se ci partecipiamo noi stessi al finanziamento di questi di questi soldi ma l'Unione Europea te li dà per fare le robe che piacciono a lei se e solo se tu aderisci alle loro raccomandazioni che saranno quelle vecchie del del delle country recommendation alza le tasse sulla casa taglia le pensioni insomma le stesse le stesse storie ora voi immaginate cosa può pensare un PD che in questo momento è l'unico partito insieme con Fratelli Italia che sicuramente dalle elezioni porterebbe a casa più deputati nonostante il taglio dei parlamentari perché è molto semplice il PD aveva preso il 16% alle elezioni non aveva vinto praticamente nessun collegio uninominale anche in Toscana e in Emilia ne aveva persi un sacco cioè per dire nel collegio di Franceschini aveva vinto la nostra Mauro Tomasi ecco cioè giusto per capire di che parliamo cioè nel nel collegio di Pisa ha vinto Ziello non 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 il PD no e insomma in una maniera o nell'altra questi soggetti sono quindi con una piccola rappresentanza in Parlamento hanno dovuto subire la scissione anche del gruppo di Renzi che gli ha portato via tanti senatori e un po' di deputati quindi se si va alle elezioni loro sicuro ne portano a casa di più di quelli che quelli che hanno adesso due sono i gruppi che vengono principalmente ridotti ma uno in particolar modo vale a dire il Movimento 5 Stelle quindi a fronte di un di una decimazione del Movimento 5 Stelle il PD sicuramente porta a casa più più deputati il nuovo sistema gli consente di scegliere meglio anche quali deputati sono perché meno collegi sono significa più facilità anche con questa legge elettorale per capire chi viene eletto perché ci sono i listini per me ci pensano su anche tenuto presente che potrebbero addirittura provare a tentare il colpaccio provando a metterli tutti assieme cioè fanno regalano a Renzi due o tre collegi dopodiché per il suo partito se riesce a fare il 3% bene altrimenti pazienza comunque in ogni caso sicuramente qualcuno con la schiena parata c'è oltretutto insomma con tutto l'attivismo che sta facendo adesso c'è anche il rischio che il 5% lo prende il Renzi solo per quelli che sono contenti perché gli stava sulle balle conte secondo me qualche voto glielo portano il risultato il risultato è che se prendono PD poi si riprendere in coalizione magari si riprendono Calenda magari si riprendono più Europa e i Verdi e così di questo tipo metti caso che si prendano addirittura anche il 5 Stelle che a un certo punto disperati per non sparire provano a mettersi in coalizione con loro e rischiano a diventare anche competitivi dal punto di vista dell'elezione in generale per cui tutta da vedere ma una cosa è certa chi arriva dopo il conto del giustamente ci sarà la 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 magra consolazione di 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 dire che è stata colpa di questi beciuvani che che sono adesso al governo daranno la colpa all'incompetente daranno la colpa a Conte e così via che è giusto ce l'hanno perché l'hanno fatte loro tutto il disastro di questi di questi anni cioè distruzione totale del tessuto economico sociale perché i ristori e orri da parola gli indennizi e il sostegno dell'economia è stata fatta con i piedi scempio della Costituzione verrà ricordato come Caligola però soprattutto ci sono come ho detto veramente una cifra di miliardi pazzesca ancora da contabilizzare che andranno tutta in mezzo alle orecchie di chi di chi arriva dopo per cui è vero cioè chi arriva dopo avrà la possibilità di dire sì è colpa di quelli prima ma magra consolazione quindi non sarà semplice io spero che se si va a una campagna elettorale e si va al voto cosa che è tranquillamente possibile proprio perché ho detto credo possa convenire al partito democratico bisogna essere molto chiari se si pensa dire che bello vado a governare sarà tutto semplice no io come sapete ho un'idea mia di l'unica maniera con cui potresti venirne fuori e non è all'interno delle regole europee mettiamola così però bisognerà essere abbastanza chiari di che tipo di situazione ci hanno lasciato questi questi pazzi no cioè quindi questo questo è so che qualcuno di voi pensa abbe ma tanto non molleranno finché non vanno a votare il presidente della repubblica ricordo che il presidente della repubblica non lo vota il governo lo vota il parlamento in seduta comune quindi somma di camere senato più i delegati regionali tre per regione espressi due da parte della maggioranza che governa la regione e uno da parte della minoranza voi capite che con questa composizione il peso preponderante ce l'hanno ancora quelli del movimento 5 stelle e voi immaginate arrivare all'elezione del presidente della repubblica quindi in finale di legislatura senza l'arma di ricatto di dire torni a vendere le bibite a San Paolo 400 grillini nello stato brado che potrebbero votare la qualunque se pensano che questo possa essere uno scenario gestibile auguri augurissimi quindi penso che l'abbiano un po' capito ecco che forse gli conviene andare a votare ecco per cui io personalmente ritengo che lo scenario più probabile sia quello che magari tutti ci auguriamo con tranquillità e responsabilità perché non sarà una passeggiata però almeno li possiamo levare di torno con il loro comitato tecnico scientifico arcuri speranza c'è tutta scusa la verranno ricordati penso proprio nel girone di Caligola quella gente lì insomma vi ringrazio e buonanotte domani nove e mezza Parlamento ciao ciao